In quel fiume sta accadendo qualcosa di strano. Luisa! 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 In quel fiume sta accadendo qualcosa di misterioso. In quel fiume sta accadendo qualcosa di mortale. Preparatevi alla peggiore nuotata della vostra vita. Sangue, paura, orrore, sesso. Mia figlia era andata al fiume! Non nuotate in quel fiume. Hanno sparato in faccia a Dilora. Non nuotate in quel fiume. Dammi ora un buon motivo per non piantarti questo del culo! Non nuotate in quel fiume. Vai al fiume. Rilassati. Muori. Era il fumetto preferito di me, a zia. Rilassati. 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 Grazie a tutti